Amici di Milan.soccer, buongiorno, buongiorno Rosso Nero, da me e dalla direttrice che però in questo momento è impegnata a mangiare, quindi un saluto a distanza. Come state? Ben ritrovati? Io sono particolarmente felice e contento perché c'è il Milan che torna in campo e io mi sento sempre bene. Anche se lo so, non è un momento felice, anche le nazionali non ci hanno dato le risposte che avremmo voluto, bene l'Italia, ma noi avremmo voluto vedere i giocatori del Milan riscattarsi anche dal punto di vista mentale. Invece leggo ancora adesso l'equipe che dice Teo Hernandez, il peggior Teo di sempre. Staremo a vedere, avete visto che, come si chiama l'allenatore del Milan adesso? Non è Pioli? No, è... Ah, è cambiato? No, Gianpaolo c'era prima. Poi è venuto Pioli. Adesso mi sa che c'è o Pioli o qualcun altro. Pioli? Ah, Pioli con la maschera. Aspetta che cerco su Google, Pioli con la maschera. Fonseca. Allora c'era Fonseca. E secondo questo signore, Pioli con la maschera, che già Pioli era Gianpaolo con la maschera, ecco, quindi questi tre, un ettrino, diciamo, che cosa hanno fatto? Hanno pensato di concedere contro il Venezia la possibilità di un riscatto. Beh, è chiaro che questo cuscinetto che ammortizza per noi è fondamentale. La partita col Venezia per noi è fondamentale perché è veramente un ammortizzatore. Dobbiamo capire, dobbiamo studiare, dobbiamo riprenderci perché poi ci sarà subito il Liverpool e subito dopo l'Inter. Però voglio iniziare dicendo, ammazza che botta ragazzi, ammazza che trambata, perché, ah non ho detto, iscrivetevi al canale, mettete un like al video, attivate la campanella e in descrizione il nostro sponsor, amici di Monaco di Baviera, che hanno attivato un sito per la musica copyright free. Vabbè, l'ho detto adesso. Segue il consiglio di un amico che mi dice, dai, prima dici di che cosa parlerai e poi dici ricordaci l'iscrizione. Adesso però iscrivetevi, ho fatto questo per voi. Ammazza che trambata. Eh sì, perché, non so, in occasione del premio nazionale Romano Fogli, classe e lealtà mondiale, ha parlato Eraldo Pecci, ex centrocampista del Torino, Fiorentina, Bologna, opinionista della Domenica Sportiva. Ha parlato di molti temi, lanciando una lieve frecciata all'altra squadra del Naviglio, all'Inter, dal palco, dal palco, e ha detto Dovrebbe giocare in quarta serie per i debiti che ha? E Pecci ha inoltre risposta ad altre domande, però diciamo che in quel caso è sembrato andare dritto, per andare dritto proprio... Non lo so, mi ha ricordato Papa Francesco quando ha detto In giro c'è tanta frociaggine. Cioè a volte, non perché non si possa dire, a parte che su quel tema io sono assolutamente Contrario a usare questi termini, ognuno della vita fa ciò che vuole e nessuno può giudicare l'altro. Però, quando si parla dei debiti e del fatto che la regina è andata dritta in Serie F, mentre noi qui stiamo usannando Una squadra di straordinari campioni che hanno vinto fino adesso uno scudetto, quando noi siamo portatori della storia Della più grande squadra di tutti i tempi, che ha semplicemente vinto 5 Champions League su, diciamo così, un periodo relativamente breve Ma oggi i tempi sono cambiati, ci facciamo, ormai spacciamo per oro quello che è un po' una carta stagnola Beh, detto questo però Pecci ha avuto il coraggio di dirle, si è scatenato il mondo Io non so che cosa rispondere, non devo rispondere, non so come commentare la cosa Mi sembra che sia alla mercè di tutti, ma che poi alla fine nessuno prende nessuna decisione Quindi siamo un paese così noi italiani, l'Italia è un paese così, ma poi alla fine tutti accusano, tutti denunciano Ma le cose continuano per come debbono andare secondo pochi E' una giornata decisiva perché poi domani c'è l'incontro decisivo per San Siro Si va da San Donato a San Siro con una semplicità e anche questo mi porta a dire che c'è, non dico disimpegno Quanto piuttosto disordine nell'organizzazione del Milan, ritorno al Milan Perché? Perché si fa riferimento al progetto San Donato, si circoscrive l'area, si fanno comitati pro, comitati contro, insomma di ogni E poi arriva che il Milan ha approfondito con un occhio particolare la proposta fatta dal sindaco Sala Di acquistare insieme agli altri che non so come li pagheranno, forse con i buoni del supermercato Un elemento forse ancora più determinante dell'analisi di ammodernamento Cioè il Milan ha valutato l'analisi di ammodernamento ma poi ha ricevuto la proposta di vendita E allora non a caso il sindaco Sala ha insistito molto su questo aspetto Dice che per le società è fondamentale potersi assicurare nel breve periodo un asset patrimoniale rilevante Nel corso dell'estate sono stati effettuati diversi lavori A San Siro come non accadeva da tempo può essere letto come il segno che il Milan insieme all'altra Hanno già dato il via libera a restare oppure al contrario come la necessità di fare qualcosa dopo anni di inattività Io spingio verso questa direzione la sempre più probabile rinuncia di Milano alla finale della Champions League 2027 Ora ragazzi io vi riporto, sono un divulgatore di notizie e critico e commento con voi queste informazioni e queste notizie Mi sembra che tutto vada verso la direzione dell'Inter e non del Milan Cioè noi intanto in Italia se togliamo l'Udinese, l'Atalanta che vivono in realtà autoctone molto forti La Juventus è l'unica che ha fatto uno stadio e la Juventus sappiamo di chi è la proprietà Poi tutti gli altri, tra il Viola Park piuttosto che le proposte di Lazio e Roma, le proposte del Milan In Italia nulla si muove, quindi dove vogliamo andare? A competere con squadre e con paesi che fanno solo a Londra nove stadi di proprietà, tutti nuovi Ognuno per il numero di posti necessari per poter sostenere la squadra Insomma siamo indietro, siamo un paese che ragiona Ecco perché riporto le parole di Pecci Perché sostanzialmente tutti sanno ma nessuno fa nulla Da quest'altra parte perché si va verso la direzione dell'Inter? Perché l'Inter a mio modo di pensare, vedere e sentire Perché leggo di questi debiti, non ha nessuna possibilità di fare uno stadio nuovo E il Milan ci casca con tutte le scarte Devi lasciarli da soli a San Siro Che siano pure la squadra di Milano A me non me ne frega niente di essere la squadra di Milano Noi siamo una squadra che quando sono andato in Texas o nel deserto del Nevada Conoscevano il Milan Ma non mi interessa essere la squadra della città Anche perché il nome lo portiamo noi, quindi il nome è nostro Voi vi chiamate internazionale Quindi potreste anche stare a Rocca di Papa Cioè non è quello il problema E allora perché si va verso la direzione dell'Inter e il Milan deve continuare su San Donato? Perché li deve lasciare soli? Perché non hanno soldi per acquistare San Siro Non hanno soldi per poterlo restituire Per poterlo ristrutturare E nemmeno per poterlo prendere in gestione Perché il Comune si fa ben pagare Quindi bisognerà vedere poi come si comporterà il Comune E a quel punto certo che c'è la politica di mezzo Per cui se mai fosse che i costi se li addebita il Comune Succederebbe veramente il finimondo E io credo e spero che il Milan stia facendo il doppio gioco Perché se nell'incontro di domani viene fuori che il Milan è disposto a comprarlo Due sono le cose O compra San Siro per Milan Futuro E poi si fa lo stadio a San Donato E diventa l'unica squadra al mondo con due stadi all'interno della propria città Perché San Donato al di là delle ipocrisie è Milano Oppure lo stesso Gerry Cardinale si sta preparando per andarsene Cioè non ce l'ha fatta a fare quello che voleva fare E cioè a fare lo stadio Che la cosa non mi dispiacerebbe È tutto per adesso, ci vediamo più tardi Ciao